Buonasera siamo qui con De Vivo migliore in campo la partita tra scombo il team e briscolina terminata 12 a 2 deviato addirittura di 5 gol non c'è abituato a pensazioni del genere allora questi scombo il team dopo una battuta d'arresto con questa vittoria tornano prepotentemente nelle zone di alta classifica grazie no ma parla stai parlando tu è stato bello questa vittoria perché diciamo veniamo da un sacco di tempo in cui non riuscivamo a fare una partita diciamo tatticamente ai vostri livelli ai nostri livelli questa vittoria penso che ci aiuterà anche perché da qui in poi ci saranno solo squadre che diciamo S1S di ordinare amministrazione poi il pallone S1S ho capito va bene a livello individuale cinque gol di De Vivo punto a qualcosa questo io direi grazie ai miei amici che mi hanno fatto gli assist soprattutto alfredo croce e va bene senti mi vuoi dedicare il gol la vittoria il premio la vittoria la dedico a noi a voi